Teramo deve fare il salto di qualità e questo è possibile anche grazie a delle manifestazioni, ma delle manifestazioni ben delineate, insomma, a creare un vero e proprio brand. Questo è il punto di vista dell'assessore al commercio Canzio? Assolutamente sì, perché noi dobbiamo creare un brand che identifichi questi eventi e devono essere eventi, come ho sempre detto, che siano legati al territorio, alla nostra terra, alla nostra storia, alla nostra tradizione, alla nostra cultura. E noi abbiamo pensato di crearlo, questo brand, che si chiamerà Teramo tra storie e sapore, che è un contenitore, all'interno di questo contenitore ci saranno tutti quegli eventi che rientrano con questa logica. Perché in questo momento noi dobbiamo, come dire, presentarci agli altri come un territorio che ha delle ricchezze e che è felice di mostrarlo, insomma, agli altri. Quindi è un motivo in più per venirci a trovare. In Commissione Consigliare tutti i presenti comunque hanno ben accolto questa idea. Assolutamente sì, ma io dico che quando si parla della città tutti quanti sono concordi. Poi è evidente che voi nei giorni passati avete assistito a qualche polemica, che è una polemica che, insomma, in politica ci vuole, però è positivo il fatto. Nel momento in cui siamo seduti a ragionare nessuno, insomma, ha creato storia o altro. Quindi tutti quanti siamo concordi con questa cosa e quindi sicuramente ci saranno contributi anche da parte di tutti i consiglieri. Devo dire la verità che, ripeto, non c'è stato proprio nessuno che indossava una maglia diversa da quella che era la maglia della città. Per rivitalizzare Teramo si pensa anche alle frazioni. Dunque tante iniziative di qualità e il coinvolgimento di tante associazioni. Assolutamente sì, quello che dico, noi dobbiamo esprimere le ricchezze, quindi significa anche le ricchezze non solo enagostronomiche, ma anche la qualità delle nostre associazioni, che possono fare cultura tranquillamente al pari di altre associazioni. Però quello che ho detto oggi, sì, il centro storico è importante, ma io, insomma, non vorrei ripetere che faccio l'assessore dal Comune di Teramo e quindi credo che ci siano frazioni e zone di Teramo che hanno la stessa dignità e lo stesso diritto di essere conosciuti, di essere valorizzate al pari del centro storico. Cioè noi in questo momento, quello che ho detto oggi, dobbiamo dare il senso di comunità e non che ognuno pensi a sé, perché se tutti pensano a tutti, secondo me l'obiettivo si raggiunge che è quello di valorizzare la nostra città.